Siamo con Retus Uri, giocatore decisivo e premiato come miglior in pista questa sera per l'Hockey Club Lugano. Il più importante giocatore per l'Hockey Club Lugano, per il più importante giocatore della notte. Penso che è stato un esforzo completo. Credo che abbiamo imparato le nostre lecce da l'Hockey Club Lugano. Abbiamo avuto buoni possibilità, ma non stavamo giocando come vogliamo per 60 minuti, quindi hanno avuto due giocatori. La notte è stata un po' l'altra parte, abbiamo avuto un gioco iniziale, ma poi abbiamo domini il gioco, dovremmo avere il gioco iniziale, dovremmo avere la legge. Non lo potremmo, ma stiamo con il plan e in fine sono felice che con il gioco potrei aiutare la squadra a vincere. Dice che praticamente loro hanno condotto il gioco per quasi tutto il tempo, cercando di costruire, cercando di fare il più possibile, creare occasioni e loro dicono che hanno approfittato di questa cosa, cercando di giocare in contrattacco e hanno segnato la prima rete. Da lì è diventato un po' complicato, però comunque alla fine sono riusciti nell'impresa. con il nuovo allenatore sembra che stai ritrovando la via del gioco. Con il nuovo allenatore sembra che stai ritrovando la via del gioco. Penso che c'è un po' differente role, c'è un po' più di confidenza in certe situazioni, un po' più di tempo e con la struttura magari è un po' di tutto, ma in fine sono solo uno dei 22 ragazzi che stanno giocando per Lugano, che stanno cercando di girare la squadra, quindi siamo arrivati al top 8. Come ho detto, abbiamo avuto un buon inizio per la season, quindi ora stiamo girando e ho cercato di portare il mio impatto ogni notte e aiutare la squadra in un certo modo, se ho scoperto o non, non è una grande differenza. Dice che praticamente che hai cambiato un po' tutto, con il nuovo allenatore le cose sono un po' diverse, è cambiato un po' tutto, è cambiato un po' il clima, però dice che lui comunque è uno di 22 giocatori, quindi l'impatto che può dare lui non è il più importante, è proprio un gioco di squadra che stanno cercando tutti di cambiare un po' la faccia di questo inizio un po' brutto e di cercare di arrivare ai primi posti della tabella di classifica. Può essere importante per te, forse il gol più importante finora, questo che va su tre punti, in un momento in cui particolare della stagione, e pensando anche alla partita venerdì contro la tua ex squadra Lozuko. Questa è il tuo più importante per i tre punti, e come ti senti meglio in fronte del altro gioco della prossima, contro la tua ex squadra? Io credo che non è una grande differenza, come ho detto, oggi è stato molto importante per ottenere il gioco, perché abbiamo avuto la possibilità di vincere il gioco con il secondo gioco, ma è stato un effetto completo di team, dal gioco fino al ultimo gioco in linea, e in effetti sono probabilmente il ragazzo, quando vincere il gioco, se faccio o non, c'è sempre una forma di contribuire al gioco, per aiutare il gioco, e come ho detto oggi, con il gioco decisivo, è bello, ma come ho detto, il più importante è solo il punto, e abbiamo bisogno dei punti per arrivare al top 8. Dice che non pensa che è importante dar valore al suo gol, piuttosto che al contributo che ha dato con i tre punti e al lavoro di squadra per riuscire a portare avanti gli obiettivi. Più facile è andare nei play-off o imparare l'italiano? Sì. Ho provato, 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 ho provato un po' di scuola, ho provato, ho provato un po' di parlare, ma ho capito un po' di parlare. Dice che comunque capisce, tutti i lunedì va a fare il corso di italiano, così può parlarlo meglio. Buona prossima volta. Ti ringraziamo, in bocca al lupo, speriamo un tuo gol, magari venerdì contro lo Zuko. Grazie. Ciao, ciao Reto. Grazie. Grazie Ehi, 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 go!